Penso che aiuti la poesia, poter ricordare dei versi in certi momenti della giornata è bello, perché, specialmente se la poesia ha un significato straordinario e profondo come questa di Montale, aiuta, aiuta a ricordare come certe parole del Vangelo, insomma, no? Ti ricordi la parabola e dici però, ecco, è un ripassare un po'. D'altra parte, il Vangelo è verbo divino, la poesia è verbo dell'anima, quindi c'è una consustanzialità, insomma. Hai detto, come non potevi dire meglio? Non so, complimenti, non è. Allora, da Gastone Moschina, alcuni versi di Montale. Avrei voluto sentirmi scadro ed essenziale, siccome i ciotoli mangiati dalla salsedina, scheggia fuori del tempo, testimone d'una volontà fredda che non passa. Altro fui, uomo intento che riguarda in sé, in altrui, il bollore della vita fugace.